Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui perché con Antonio Che è un mio amico Solamente che lui va in Skate Là giù c'è la mia BMX Quindi faremo un po' di tricchettini qua Direi di partire Mamma Vai c'eri Quasi Porco tua Mi stanno davanti girato Grazie a tutti Ma ti si gira Buongiorno Oddio Buongiorno 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 Grazie a tutti